L'arrivo è avvenuto pochi minuti prima delle 10. L'interrogatorio di Mirko Giancaterino, il 36enne accusato dell'omicidio dell'ex maresciallo dell'aeronautica militare Gabriele Gianmarino, si è svolto in 21 minuti. L'uomo accusato di omicidio, volontario con l'aggravante della crudeltà, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al suo arrivo Giancaterino è apparso visibilmente provato. A stento riusciva a stare in piedi sorretto dalle forze dell'ordine. Al termine dell'audizione, davanti al GIP Nicola Colantonio, il suo avvocato difensore, Paolo Marino, ha dichiarato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lei è riuscito a parlarci? Sì, sì, ci ho parlato. Lui si dichiara completamente strano e la vicenda verificheremo poi con lo studio più dettagliato degli atti gli elementi a carico dell'indagato. Noi intanto annuncia l'avvocato Marino, dopo aver analizzato gli elementi a carico, si deciderà se depositare istanza davanti al Tribunale del Riesame. Prossimo appuntamento davanti al Tribunale di Giudice? No, non c'è nel caso in cui depositiamo istanza al Tribunale del Riesame. Intanto spunta un testimone che dice di aver riconosciuto Gian Caterino mentre fuggiva dal palazzo dove si è consumato l'omicidio. Testimonianza che si aggiunge alle immagini registrate dalla telecamera di una tabaccheria vicino al luogo dell'omicidio. L'abbigliamento che appare nei video è stato rinvenuto nella casa dell'accusato dai carabinieri della compagnia di penne. Facciamo il primo piano.